Anticipazione in posta al sole. Trama puntate dal 24 al 28 maggio 2021. Marina affronta Pietro Abate. Il ritorno inaspettato di Marina Giordano ad un posto al sole donerà nuovo vigore a Roberto Ferri che insieme all'imprenditrice programmerà una nuova strategia per poter sconfiggere Pietro Abate. Speranza intanto deciderà di lasciare la città dopo aver preso una forte consapevolezza. Clara rifiuterà ancora una volta Alberto mentre una telefonata creerà preoccupazioni e ansie in Patrizio. Lunedì 24 maggio 2021. Pietro continua a portare avanti con successo il suo piano contro Roberto. L'uomo questa volta fa veramente fatica a contrattaccare e sembra destinato a rassegnarsi. Abate intanto coinvolge Alberto nelle sue macchinazioni. Il palladini dal momento che i cantieri portano il suo nome sceglie di sostenere Pietro nella sua vendetta. Determinato sempre più ad essere fedele ad Alex e ad allontanare da sé Speranza in ogni modo, Vittorio decide di partire alla volta di Madrid per raggiungere la sua amata e farle una bellissima sorpresa. Nel frattempo Speranza prende sempre più consapevolezza del fatto che la sua presenza a casa del bue e nella vita del figlio di Guido stia alterando non poco gli equilibri dei suoi cari. Così dopo una giornata passata a riflettere decide di fare ritorno al suo paese e di lasciare per sempre la città di Napoli. Martedì 25 maggio 2021. La situazione ai cantieri si fa sempre più critica e difficile. Roberto messo alle strette da Alberto e da Pietro non riesce a trovare una valida via d'uscita. Ormai le approvate veramente tutte. Ed è sul punto di accettare con rassegnazione l'inevitabile sconfitta. Ferri però ancora non sa che qualcuno sa percorrere in suo aiuto. Di chi si tratterà? Sempre più triste e con il cuore ridotto in frantumi, Speranza si accinge a lasciare Napoli per ritornare a casa sua. Vittorio messo al corrente della sua partenza, come reagirà? Lara è molto preoccupata per la situazione dell'azienda di Ferri e cerca di stargli accanto come può e di dispensargli consigli. Ma sorge un dubbio. Sta fingendo? Oppure è realmente tesa per il suo compagno? Un arrivo inaspettato rallegra Roberto che inizia a intravedere un barlume di speranza. Mercoledì 26 maggio 2021. Mentre Lara appare sempre più disposta a fare il doppio gioco, ecco che interviene Marina, la quale non si lascia per nulla contagiare dall'atteggiamento disfattista di Roberto Ferri. E così senza pensarci due volte fronteggia personalmente Abate dimostrando molto coraggio. L'imprenditore con un sorriso beffardo lascia chiaramente intendere che continuerà a lottare per impossessarsi dell'azienda. La donna è ritornata più combattiva e grintosa che mai. Riuscirà a scongiurare il declino dei cantieri? Al caffè Vulcano Giancarlo Todisco continua a corteggiare Silvia e a frequentare il locale con assiduità. L'uomo spera di essere contraccambiato. La Graziani nonostante le intriganti attenzioni del direttore di banca tenta ancora una volta di recuperare il suo rapporto con il marito Michele. L'uomo le sarà indifferente? Qualcosa cambierà? Giovedì 27 maggio 2021. Marina mette da parte il rancore verso Roberto e insieme a lui pianifica una nuova strategia per salvare in estremis i cantieri. Intanto Pietro Abate si sente invincibile e non sembra affatto disposto a placare la sua sete di vendetta. Anzi certo di vincere prova a reclutare nuovi complici. A chi chiederà aiuto? Alberto sempre più affranto tenta disperatamente di rifare breccia nel cuore di Clara. La giovane però determinata a realizzarsi professionalmente non vuole più saperne di lui e gli dice a chiare lettere che non intende più tornare indietro per non condannarsi a inutili sofferenze. Renato è molto nervoso in quanto è alle prese con un serio problema lavorativo. Per tale ragione dopo aver capito di non potercela fare da solo decide di farsi aiutare. Ma nel fare la sua scelta propende per la persona più improbabile. Venerdì 28 maggio 2021. L'inaspettato ritorno in città di Marina dà nuove energie a ferri il quale si butta a capofitto nel lavoro. L'imprenditore è pronto a giocare tutte le carte che ha a disposizione per poter sconfiggere il suo nemico. Pietro Abate però non vuole mollare e continua a orbitare attorno ad Alberto Palladini. Tutta questa situazione preoccupa fortemente Lara nella quale si risvegliano non poche paure. La donna teme di essere messa da parte da Roberto e che quest'ultimo e Marina tornino a far coppia. Vittorio è in procinto di partire per la Spagna per incontrare Alex. Nel frattempo una telefonata inaspettata allarma particolarmente Patrizio. Renato fa una scoperta molto interessante in merito al regalo richiesto dal piccolo Jimmy. Esso potrebbe rivelarsi utile in maniera a dir poco insospettabile anche per altri scopi. Quali? anticipazione imposta al sole. Filippo e professor Volpicelli pronti per nuove avventure. Sono passate già diverse settimane dalla storyline avente come protagonisti Filippo Sartori e Serena Cirillo. Proprio quando la giovane ha rivelato a suo marito di essere in attesa del loro secondo genito ecco che l'uomo ha scoperto dopo una serie di brutti mal di testa di avere un problema di salute molto grave e dagli sviluppi non purtroppo prevedibili. I coniugi Sartori in aggiunta a ciò hanno dovuto superare con tutte le loro forze una brutta crisi di coppia in parte dovuta alla interferenza di Cristiana la nuova Skipper e in parte connessa a Leonardo Arena con il quale Serena aveva iniziato una relazione dopo essere venuta a conoscenza del tradimento del marito a Tenerife con Viviana. Ritornando alla precaria salute del Sartori sappiamo che ha preferito prendersi un periodo di pausa da lavoro e lungo questa scia insieme alla famiglia ha trascorso un po' di tempo in Germania dalla mamma di Serena per provare a smorzare un po' la tensione. E adesso che cosa accadrà? Come ben sapete Filippo è ritornato a Napoli con sua moglie e la piccola Irene. Al momento la questione legata alla sua malattia sembra essere stata messa in stand by dagli autori. Ci sono però dei piccoli segnali che lasciano pensare che questa storyline verrà presto rispolverata. Di recente sui social è apparsa una foto che ritrae il professor Eagle Volpicelli interpretato da Massimiliano Buzanca in compagnia di Filippo. Tadescatto è accompagnato dalla didascalia pronti per nuove avventure. Tutto ciò lascia chiaramente intendere che il dottore e il figlio di Ferry stanno girando nuove scene insieme e che presumibilmente i malesseri del nostro amato personaggio torneranno purtroppo a tenerci in tensione. Anticipazioni un post al sole. Per Clara inizierà una nuova vita. Alberto si allea con Pietro per distruggere Roberto. Nelle puntate di un post al sole attualmente in onda su Rai 3 il personaggio interpretato da Imma Pirone, Clara Curcio è sempre più al centro della scena. Anzi in alcuni episodi è addirittura grande protagonista. La donna ha lasciato Alberto pur avendo un figlio con lui, il piccolo Federico. Purtroppo è molto sfortunata in amore pur avendo investito tutte le sue energie nella storia con i paladini. Ha scelto di porre fine alla sua relazione proprio ad un passo dalle nozze impossibilitata a sopportare la ingombrante presenza di Barbara Filangeri nella sua vita e in quella del suo compagno. Attualmente Giulia Poggi che ha preso molto a cuore la situazione della ragazza le sta vivamente consigliando di dare una svolta alla sua esistenza impegnandosi in un qualcosa che possa garantirle un futuro più roseo e promettente ad esempio riprendendo gli studi. Nelle prossime puntate la nostra Clara ci apparirà più forte e determinata che mai lontana dalla timida ragazza che abbiamo conosciuto all'inizio quando era solo un'ingenua cameriera di casa Viscardi. L'ex di Alberto dunque farà passi da gigante in quanto inizierà a studiare pronta ad inserirsi in un nuovo percorso professionale. Gli spoiler segnalano che anche per Alberto ci saranno dei cambiamenti importantissimi. Attualmente l'uomo ci appare molto demotivato e sembra essere caduto nel tunnel della depressione. A breve lo vedremo a colloquio con Pietro Abbate e dunque ritornerà ad essere una presenza preponderante nell'ambito dell'azienda di Ferri. Pietro infatti si servirà di lui per sferrare il colpo di grazia al suo nemico e questa volta per il nostro Roberto non sembrerà esserci via d'uscita. Infine il paladini tenterà anche di recuperare terreno con Clara ma già vi annunciamo che i suoi sforzi si rivelleranno fallimentari. Lei infatti non ne vorrà più sapere di lui sostenendo di non fidarsi più. Anticipazioni imposta al sole prossime storyline. Marina Giordano e il teso vis-a-vis con Pietro Abbate. Chi segue un post al sole da anni sa che Roberto Ferri è un osso duro e che riesce sempre a cavarsela qualunque situazione si presenti. Stavolta però pare proprio che non ce la farà. Pietro Abbate infatti non vede l'ora di distruggerlo sul fronte lavorativo per vendicare la morte del padre Attilio Corsani. Nelle prossime puntate l'osco imprenditore potrà contare addirittura il suo Alberto Palladini per portare avanti il suo piano. E Ferri proprio non potrà sopportare tale ingerenza. Il ritorno di un personaggio molto amato dai fans però potrebbe scombussolare tutte le carte in tavola. Dopo diversi mesi di assenza per la gioia dei telespettatori di Rai 3 sta per reinserirsi nelle vicende della trama dei cantieri la nostra amatissima Marina Giordano impersonata da Nina Soldano. Le prime indiscrezioni circolanti in rete indicano che la donna si inserirà nel filone narrativo riguardante il declino economico di Ferri e che cercherà di prendere in mano le redini della situazione per salvare l'azienda in estremis. Anzi gli spoiler rivelano che la donna e Roberto decideranno di collaborare insieme per trovare una nuova valida strategia atta a limitare i danni. Tutto questo mentre Pietro non vorrà fermarsi affatto e proverà a reclutare nuovi complici. La Giordano a quanto pare non cercherà vendetta alcuna. Roberto felice farà salti di gioia mentre Lara si sentirà sempre più presa dal T-Con iniziando così a sviluppare dei veri e propri sentimenti nei suoi riguardi. Marina in aggiunta a ciò si renderà anche protagonista di un faccia a faccia molto teso con Pietro Abbate. Non sappiamo esattamente che cosa si diranno ma quel che è certo è che si tratterà di uno scontro verbale molto forte. In concomitanza all'entrata di Marina è previsto anche quello dell'attore Giorgio Borghetti che veste i panni di Fabrizio Rosato. Il suo però a differenza di quello della Giordano sarà un rientro destinato a durare pochissimo. Inoltre avverrà qualche settimana dopo rispetto al reintegro nel cast della donna. Perché? Che cosa accadrà al compagno di Marina? Resserà vittima della vendetta di Pietro Abbate? O lascerà a Napoli perché Roberto e la sua ex moglie scopriranno di essere ancora fortemente legati l'uno all'altra? È tutto da scoprire. Un posto al sole. News di gossip. L'attrice che interpreta Speranza si confessa e svela che... Tra le new entry più chiacchierate di un posto al sole figura sicuramente la nipote di Mariella Altieri, Speranza che come ben sappiamo è contesa da Samuel Piccirillo e da Vittorio del Bue. Quest'ultimo che come ben sappiamo è legato sentimentalmente ad Alex Parisi che si trova attualmente in Spagna sta facendo di tutto per non soccombere ai sentimenti per lei. L'interprete di questo nuovo personaggio, Maria Sole Di Maio si è confessata in una recente intervista dove ha affermato di amare Speranza perché le somiglia tantissimo. Inoltre è tutto ciò che vorrebbe essere nella vita reale e non solo. Le ore che trascorre sul set sono per l'attrice un vero e proprio momento di liberazione in quanto le donano grande carica e tanta energia. Maria Sole e Speranza hanno tantissime cose in comune. L'altieri è una ragazza molto particolare e intrigante che affascina per i suoi modi di fare. Inoltre è estremamente talentuosa. Nemmeno la giovane attrice sa dire bene che cosa accadrà nelle prossime settimane al suo personaggio. Ma nonostante questo ha assicurato che ne vedremo delle belle. Speranza è una ragazza che ama la vita, è solare e un po' ingenua. E probabilmente nemmeno si accorge di ciò che accade intorno a lei. Entrare a far parte del mondo di un posto al sole, la SOP partenopea che dal 1996 ci appassiona con le sue storyline a sfondo sociale, è stato per la giovane Di Maio un passo molto importante per la sua carriera che l'ha catapultata dritta nel mondo della televisione. Nei prossimi episodi in onda su Rai 3, Vittorio, sempre più turbato sentimentalmente, deciderà di partire alla volta di Madrid per recuperare il suo rapporto con la Parisi. Speranza nel frattempo maturerà una forte decisione dopo aver preso consapevolezza di aver distrutto gli equilibri presenti, a casa del Bue deciderà di partire per fare il ritorno nella sua città. Ciò accadrà davvero? Ci aspettano appuntamenti imperdibili, non credete? Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.